A pochi giorni di distanza dall'incidente di Berbenno, tra un mezzo pesante ed un'auto che costrinsa la chiusura della statale 38 per oltre sei ore, un nuovo scontro, sempre tra un camion ed una vettura, ha nuovamente causato il blocco di un tratto della statale all'altezza, questa volta del comune di Piateda. L'incidente si è verificato verso le 10.45. Una donna di 65 anni, originaria del posto, si stava dirigendo verso la bassa valle quando avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, mentre stava sopraggiungendo un camion con una cisterna contenente petrolio diretto a Livigno. L'autista, classe 1966 di Villa di Tirano, avrebbe frenato nel tentativo disperato di evitare l'impatto con la Volkswagen Golf, che è stata però inevitabilmente colpita frontalmente, ma solo sul lato del conducente. Un urto violento che ha fatto carambolare l'auto e che ha visto i rottami schizzare lungo la strada. Incastrata nell'abitacolo, la signora al volante, che è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco a corsi sul posto, insieme ai sanitari del 118, che hanno trasferito con l'ambulanza la ferita in codice verde all'ospedale di Sondrio. Impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica, la polizia stradale, che insieme ai carabinieri, si è occupata anche di deviare il traffico nel tratto, che per le necessarie operazioni di rimozione dei mezzi e di bonifica dell'asfalto è stato chiuso fino alle 12. con la conseguente formazione di code e rallentamenti in entrambe le corsie di marcia.